Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, come sapete ogni venerdì cosa faccio? Vado a provare uno dei vostri videogiochi Vi ricordo che in descrizione trovate il link per compilare il forum in modo tale che se poi il gioco mi piace lo porto qui su questa rubrica Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i corsi gratuiti per imparare a creare videogiochi in Construct Ma i videogiochi che vado a provare nella serie dei vostri videogiochi possono essere fatti con qualsiasi engine Quindi non vi preoccupate se utilizzate Construct, Unity, Unreal, GDevelop, inviatemi il vostro videogioco Oggi proviamo il videogioco di Lorenzo Montello che realizza Crazy Rails, quindi diciamo binari pazzi Tra l'altro quel fonte è molto simile anche al fonte di Broom, questo qui del titolo Scheda protottoswitch.io, molto interessante, molto basica, ci sta, penso che la palette colori utilizzata quindi questo verde sia il colore utilizzato poi all'interno del videogioco Anche se effettivamente nel titolo è quello il colore Il gioco è stato realizzato in 48 ore durante la GMTK Game Jam Purtroppo lui ha avuto un problema di connessione e infatti non ha avuto modo di caricarlo in tempo Ah ma la sua connessione, beh abbiamo tutti questi problemi in Italia Purtroppo E voglio assolutamente provare questo videogioco che appunto lo realizza in 48 ore utilizzando l'engine Unity Quindi già complimenti perché hai utilizzato Unity e vediamo subito che videogioco ha fatto Montedev, quindi vediamo, Montello, lui si chiama quindi ottima questa cosa Bella quest'intro, oh musichetta che mi piace a dire il vero Che mi piace purtroppo non c'è un bottone per mettere il gioco in full screen Quindi quello che faremo noi un po' come facevano gli antichi CTRL+, quindi zoomiamo così in questa maniera E vediamo quindi il videogioco che ha realizzato Allora, menu principale bellissimo, sapete perché? Perché realizzato in 48 ore è puritissimo Best score al centro, che in questo caso da zero Titolo con un piccolo sign, come state vedendo che alla fine è un blocco solo Hanno due sign, questi bottoni, che alla fine si capisce che sono anche cliccabili Cambiano anche il colore se ci passiamo sopra Sì, leggermente a dire il vero Cambiano opacità, dire il vero o tonalità del verde Diventa più scuro, sì E poi guardate, sfondo il look dietro Perfetto Clicco sul bottone per attivare e disattivare l'audio Non leggo qui dei crediti ma effettivamente ci sono qui Quindi Lorenzo Montello, quindi va benissimo In questo caso si capisce che ha fatto tutto lui Si ha anche la grafica che il codice e tutto Quindi complimenti, anche perché ha utilizzato gli sprite font Clicco il bottone play Allora, non so quello che devo fare Non c'è nessun tutorial Ma io ho già giocato a questo videogioco Ed è stra figo Praticamente quello che bisogna fare è semplicissimo Bisogna sistemare questi binari Quindi praticamente cosa succede? Il nostro treno va avanti E noi con il tasto sinistro del mouse Toccando con lo schermo sicuramente anche per mobile Perché alla fine è in verticale Oh, ho perso Dobbiamo aggiustare la direzione di questi rail Una figata Arriviamo al game over Che ci dice new best score Quindi ottima questa cosa Infatti dopo faremo un punteggio più basso Vediamo effettivamente cosa ci porta Posso attivare e disattivare l'audio Anche se posso attivare e disattivare l'audio Ma se clicco try again Guardate cosa succede Mi riporta al menu principale Quindi effettivamente Mettere il bottone dell'audio In quel punto Tanto subito dopo lo rivedo Non so fino a che punto può servire Infatti voglio fare un test Adesso disattivo l'audio Clicco play E voglio vedere cosa succede Guardate un po' Voglio andare a perdere In questo caso Vediamo cosa succede Ecco Bravo Hai fatto una cosa molto bella Il bottone dell'audio rimane disattivato Mi dice il punteggio E il mio punteggio E mi dà la scritta game over Bravissimo Hai fatto quello che facciamo noi Nei meme games Non c'è molto tempo a disposizione Sia con il gioco di Albano Sia con il gioco di Sgarbi Quello che abbiamo fatto Cos'è stato che Quando clicco su try game Infatti non vado a riportare il giocatore All'interno del gioco Quindi della scena in cui può giocare Ma dall'inizio del menu principale Quindi ottima questa cosa Però l'unica cosa che avrei fatto E magari togliere il bottone dell'audio Perché tanto lo rivedo subito dopo E magari utilizzare quello spazio Per la condivisione Social Votare il videogioco Qualsiasi altra cosa Però ottimo lavoro Beh che dire Dal punto di vista del gameplay Adoro tantissimo anche a livello sonoro Il suono del treno Dei binari È una figata È veramente bellissimo Voi adesso non lo state sentendo Adesso ve lo faccio sentire Guardate qui È veramente bellissimo Veramente molto bello E poi che dire A livello di meccanica Hai fatto tutto molto bene Il fumo Quindi la particella del fumo dietro Mi piacciono anche queste frecce Che ci indicano Cosa selezioneremo noi Quindi quale binario Stiamo selezionando Mi piace anche il fatto Dello zoom Che non avviene di colpo Ma c'è effettivamente Un twin Quindi un'animazione Verso il centro del gioco Si rallenta il tutto Quindi ottimo con i rallenti E poi non so se ci avete fatto caso Ma diventa poco poco scuro Ai bordi Hai fatto un gioco Fatto benissimo È un gioco fatto veramente bene Quello che farei io Forse non so se in questo caso C'è o non c'è Che diventa veramente Veloce Subito dopo E poi è bello Cioè è veramente bello Perché ci ho giocato Per qualche minuto A dire il vero E ho pensato subito Al fatto che Lo sviluppatore di oggi Ha fatto un ottimo lavoro Ma un ottimo lavoro Perché ha avuto poco tempo A disposizione E ha curato tutto Nei minimi dettagli Non ha voluto Esagerare troppo E ha fatto Quel poco In maniera Fatta veramente bene Anche il fatto che Quando il binario È settato bene Appare quel bordo verde Come avete visto No? O se io clicco Ho un binario sbagliato Avete visto che Il binario inizia a tremare E ha un bordo rosso Sono tutti piccoli Particolari Che io amo fare E amo vedere Negli altri videogiochi Infatti Complimenti Veramente tantissimo C'è poco da dire Non ho nessun Suggerimento Da darti Per questo videogioco Se non che Se non erro Se io riavvio la pagina Non mi ricordo Se in questo caso Il treno Era di colore diverso Non mi ricordo Perché Mi ricordavo Che fosse di un colore diverso Ma non credo A dire il vero Mi sa che era proprio Rosso il treno Vediamo un po' Infatti è rosso Pensavo fosse randomico Ogni tot Ma invece no Non so Per un attimo Ho pensato a questa cosa Che dire Si potrebbero fare Mille cose in più Ma perché dovresti farle È un gioco nato In 48 ore Secondo me va bene così È ovvio che si potrebbero fare Altre modalità Si potrebbe fare Che tu puoi comprare Altre tipologie di treno Puoi anche Fare che la difficoltà È sempre più difficile Forse sì È quello che farei Perché comunque Secondo me Non è proprio così tanto Facile perdere Quindi Non so fino a che Punto Almeno Non so se poi più avanti Succede qualcosa di più figo Se ci ho giocato Per un po' di tempo E ragazzi Vi do la possibilità Ad ognuno di voi Di provarlo Link in descrizione E mi raccomando Provatelo Perché Date feedback Allo sviluppatore Ha fatto veramente Un bel lavoro E prendiamo appunto In analisi Proprio questi video giochi Qui Ha fatto tutto bene In quel poco tempo A disposizione Ha fatto tutto bene Anche il discorso Che quando io vado a perdere Entra il game over In questo modo E Lui ha detto Sicuramente ho poco tempo A disposizione Quindi cosa faccio Per velocizzare il tutto Faccio che quando io clicco Try again Appare questa schermata verde Davanti a me Restarto il videogioco E ha fatto bene Secondo me È la soluzione migliore Più che try again Magari ci sta Go to menu Però non va bene Il try again Come bottone E poi Quello che farei È togliere il bottone Dell'avvio Forse nella seconda parte Perché tanto poi Lo rivedo qui Quindi non so fino a che punto Può servirmi Poi per il resto È un gioco fatto switch Quindi non c'è neanche bisogno Forse è vero Di mettere in voto Il mio videogioco Tutte queste cose qui Però veramente Hai fatto un bel lavoro Mi piace che c'è anche Il bordo nero Su tutto Anche sull'HUD Mi piace questa cosa E poi il rallenti È fatto benissimo Non so adesso Con Unity come funziona Ma anche qui se non erro Con Unity funziona Come un timescale Adesso Per quel poco Che l'ho utilizzato Mi ricordo che funziona così Ragazzi Questo era il videogioco di oggi Io faccio i miei più grandi complimenti A Lorenzo Montello Che in poche ore Ha fatto un videogioco Veramente fatto bene Mi raccomando Continua a fare i giochi Perché sei molto portato Secondo me Hai fatto un ottimo lavoro E chissà Magari lavora all'esportazione Per Android Lavora a rendere Questo videogioco Per mobile Perfetto con le dimensioni Per tutti i dispositivi Così imparerai a farne Sempre di più E mi piace anche il fatto Che questo videogioco Sia per web L'ha fatto con Unity Per web Quindi ottima cosa Non ha fatto ad esempio Scarica la PK Queste cose qui Quindi ottimo ottimo lavoro Per il resto ragazzi Trovate tutti i link utili In descrizione Se vi è piaciuto questo video Lasciate un mega pollicione in su Provate questo videogioco E lasciate un po' di feedback O nella pagina Itch del videogioco Oppure qui sotto Nei commenti Ci vediamo domani Con un nuovo video Ciao 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 Ciao